Il mio programma è questo, filmare in diretta la realizzazione del cubo, spero di farcela prima la macchina, questo è il sostegno della macchina, questa è la macchina, potete stare a filmare i particolari, sapete meglio di me, la macchina è 52x52, questo è il lato sinistro o destro, questo è il lato anteriore, la batteria che uso, c'era qua la batteria rossa, sto usando questa, questo è il tavolo, io penso realizzare un cubo diretto, sperando che salga a tempo la macchina qua, questa è la vascula, la vecchia vascula che ho trovato nella fabbrica così posso anche pesare, migliorare, questa è la macchina prima, peccato è, non poter realizzarla tutta, ci prendiamo già, mettiamo già qua, che non ti andiamo a fare, questa cosa che riesco a farlo, spero che sia, questo filmato devo vederlo solo, io l'ho fatto, posso Posso vederlo tu, Giovanni, Aristide e nessun altro, questo è il cubo, la distanza come me, sono dedicati in questo rapporto, al tavolo, questo è la pera del destro, dietro, diventerà la sensazione, più, sic. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.